Ben ritornati al nostro TG Sport, lo vedete già in quadrato, felice e vacuo, neoacquisto del Parma, è stato presentato questa mattina a Giocampus, ci è venuto a trovare, quindi con lui faremo qualche considerazione. Prima domanda, perché hai scelto proprio Parma? Beh, insomma è stata una scelta abbastanza facile perché questa è una società molto prestigiosa, è una storia importante, quindi per me è motivo di orgoglio essere stato scelto per cercare di riportare in alto questa società. E cosa ti aspetti da questa stagione? Beh, sicuramente di togliermi grandi soddisfazioni a livello professionale, soprattutto di togliere soddisfazioni anche ai nostri tifosi perché so benissimo che è un pubblico caloroso, molto attaccato alla squadra di calcio, quindi cercherò insieme ai miei compagni in tutti i modi di realizzare quello che è il piccolo grande sogno di questa società che è rinata dalle GMI della Serie A. Assolutamente. Ti possiamo strappare qualche promessa per i nostri tifosi, lanciamo un messaggio, insomma ovviamente ti impegnerai moltissimo, fai tanti gol. Beh, diciamo che il mio mestiere è quello di fare gol, però prometterli è sempre un po' complicato e anche comprometterli, quindi quello che posso promettere ai tifosi è sicuramente il massimo impegno, l'attenzione a questa causa perché so benissimo di essere arrivato in una società seria, una società favolosa e quindi cercherò di dare il massimo per raggiungere gli obiettivi previstati. Tu conosci la nostra città, la nostra terra? Sì, ci sono stato già altre volte, però provo insomma di conoscerla ancora meglio da vicino. Va bene, grazie allora, grazie a te. A Felice per questa intervista in diretta, questa mattina, vi ho già detto, presentazione Agio Campus, non soltanto sua, ma anche di Manuel Nocciolina, e andiamo subito a vedere i servizi.